oxymate il nuovo prodotto della famiglia spin per la pulizia dei motori benzina diesel prima di iniziare il lavoro il processo di pulizia è necessario inserire il prodotto attraverso l'apposito prodotto attraverso il tappo di riempimento il prodotto è composto da 3 litri d'acqua distillata e da 50 gradi di idrossi di potassio e andremo a miscelare preventivamente prima in una tannica esterna e prima di inserire direttamente nella tannica del oxymate abbiamo preparato la miscela idrossi di potassio e acqua distillata accendiamo il nostro oxymate e aspettiamo che il programma si carichi allora la prima volta che facciamo questa ogni volta che mettiamo una miscela nuova che mettiamo un nuovo prodotto all'interno dobbiamo andare seguire la taratura della camera che è molto semplice perché si va in opzioni impostazioni di pulizia possiamo programmare un tempo di 20 minuti per far sì che parta il sistema ritorniamo nel menu opzioni ancora taratura colonnina taratura ecco il valore corretto è 16 ampere per cui aspettiamo aspettiamo che vada in funzione il processo tra queste operazioni la facciamo ogni volta che diciamo andiamo inserire la nuova miscela però possiamo comunque sempre controllare man mano che cara il livello aggiungiamo acqua distillata ed eventualmente andiamo ad aggiungere anche un po di idrossi di potassio finché non abbiamo il display non visualizzi 16 ampere se il valore visualizzato è inferiore a 16 ampere ci sarà ad aggiungere una piccola quantità di idrossi di potassio se invece è maggiore di 16 ampere andremo ad aggiungere un po di acqua distillata allora effettuata la taratura della cella torniamo menu opzioni andiamo a impostazioni pulizia a settare il tempo di lavaggio 30 minuti nel nostro caso sono più che sufficienti sensore giri attivo o non attivo inseriamo attivo vuol dire che il generatore di a cacao non partirà se non rileverà le vibrazioni del motore quindi capirà che il motore è in moto questo andiamo a mettere qui ok per ragioni di sicurezza è meglio inserirlo menu pulizia andiamo inserire i parametri relativi a quelle che sono le caratteristiche del veicolo in questo caso diesel euro 414 cilindrata fino a 4.000 gc premiamo ok avviamo il motore del veicolo abbiamo avviato il veicolo del motore premiamo start confermiamo e inizia la produzione di idrogeno allora il loximet è dotato di due celle adesso stiamo lavorando solo con la prima cella perché è sufficiente a diciamo pulire il lavaggio dei motori fino a 4.000 gc se selezionassimo oltre i 4.000 gc avremmo il funzionamento anche della infuzione anche la seconda scena tempo programmato rimanente h2o ok e percentuale di lavaggio in corso allora il tempo trascorso il timer indica zero sono passati 30 minuti di questa di prima possiamo spegnere il volto benissimo scolleghiamo il tubo e spegnere i nostri aprile